Vogliamo passare il Natale in casa nostra. Sono tre le famiglie in via Cairoli che, in seguito ad uno smottamento di terra innescato dalle forti precipitazioni di venerdì 5 dicembre, avrebbero dovuto abbandonare le loro case. Un dissesto che riguarda circa 500 metri quadrati e che ha causato il crollo di muri di recinzione e il movimento di una considerevole massa di terra. Che cosa è successo Roberta e come prevedete voi di passare i prossimi giorni? Beh, allora, quello che è successo è stata una cosa terribile perché a noi ci ha proprio accolto di sorpresa alle 7 di sera e è venuto giù praticamente il mondo, l'acqua e poi tutto il fango, tutto quanto in casa, quindi potete immaginarvi da prendere e buttare fuori tutto quanto. E poi, niente, la mattina d'alzarsi e venire fuori e vedere quello che era perché noi la sera non ce ne eravamo resi conto di che cosa era, insomma tutto quel fango lì da dove poteva arrivare. E poi, niente, praticamente ci avevano detto che c'era arrivata questa ordinanza di uscire da casa e di cui siamo tre famiglie, però oggi, grazie a Dio, sono tornati tutti quanti a vedere se noi dobbiamo uscire o no, insomma tutto quanto. Hanno fatto un sacco di esami sulla terra, hanno fatto un sacco di cose e fatto sta che sembrerebbe con una nuova ordinanza che darà il sindaco che noi possiamo rimanere in casa. Ora però sarà vera sta cosa? Questo è il dubbio che ho, perché a questo punto ora mi ci viene il dubbio. La padrona di casa ci ha riassicurato, però io non lo so più a questo punto. Ecco, quindi però sono venuti i tecnici dell'amministrazione comunale. Domani mattina danno la sicurezza, dovrebbero venire sempre se non piove, tra virgolette, perché domani ha dato tempo in paccio, quindi dovrebbero venire a metterci in sicurezza. Praticamente prenderebbero dei pali, penso, con delle cose, insomma, con delle reti o dei pannelli per non far casca giù il resto. Praticamente prenderebbero dei pali, penso, con delle reti o dei pannelli per non far casca giù il resto.